benvenuti su poppy playtime l'ho trovato per caso su tik tok e mi ha fatto letteralmente innamorare la faccia del enemy del nemico del gioco non so assolutamente niente o l'ho visto su tik tok mi sono innamorato e l'ho scaricato si sta avvicinando halloween siamo in tema halloween sto bevendo la cioccolata con tra l'altro la mia tazza avere tre iscritti ed una tazza perfetto e direi che possiamo iniziare eccolo qui questo tipo ha un character design eccezionale un ex impiegato di playtime e co co vabbè noi siamo un ex impiegato finalmente ritorni dalla fabbrica dopo qualche anno e tutti quanti sono scomparsi o è un animatronics con una intelligenza artificiale ecco il motion blur non avevo tolto il motion blur ricordate togliete sempre il motion blur da qualsiasi gioco abbiate e per interagire devo azzeccare la password e per aprire ok qui possiamo entrare effettivamente possiamo saltare benissimo acqua e blu blu viola vabbè ho la cassetta ho la messa al contrario però sento come qualcuno che gratta lo sentite deve essere forza qui allo shop l'indizio oh è un treno e che cazzo non l'avevo visto rosa giallo rosso e questo è verde il treno ce l'ho fatta ah no manca il verde allora è verde rosa giallo rosso c'è una spina enorme ah eccola poi cassetta blu registratore blu vabbè play time co grab pack madonna c'è uno zaino con delle mani ma scusa che serviva la madonna davano oggetti per staccare la testa le persone a un posto per bambini olla l'altra mano che figata mi piace che mi piace che la mano è molla quando torna dietro fa molla in modo mollastico ah ho capito ho capito c'è la mano blu la mano blu la mano blu eccola top eccolo ma se gli do fastidio fino ok se gli do fastidio prima o poi si attiva non gli hanno fatto questo tu cazzo mi sono aggrappato ok c'è un'altra porta ma io non ho l'altra mano e infatti dov'è la mia altra mano non si può aprire qui c'è power power non power tv ho capito come si grabbano gli oggetti forse ah il tastino oh c'è una chiave lì dammela dammela l'ho presa power allora è l'unico illuminato quindi per forza infatti mi sto caccando sotto vaffanculo dai mezz'ora cristo dio oh ok e beviamo il caffè eh caffè cioccolata oh non mi avevo accorto che c'era una mano lì ha fatto un smr e se n'è andato hello ah in teoria io dovrei andare lì star way to hell benissimo ci voglio andare però entriamo allora ah ogni volta clicco per aprire le cose oh 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 ok devo scendere giù vero ok oh aha qui dentro no cos'è quello vedo qualcosa ah ah eccolo vaffanculo vedo qualche cosa che luccica qua dietro oh vaffanculo l'ho trovato oh bene oh la mano perfetto mi ha dato la mano bro ah ok ci dovevo cliccare e vicino si scende giù ok oh ok allora oh eccolo devo passare di qua e dove cazzo stava eccolo stop oh io oh piano allora alla prossima accade qualcosa non me l'aspettavo così bello sinceramente oh si era buggato tutto per un secondo e ce l'ho fatta ha bisogno di energia devo attivare un altro generatore madonna aspettate no rimango a peso oh e perché prima non funzionava l'ho fatto uguale vabbè bene power on make a friend sono morto che succede adesso si mi da mi da un pupazzetto ecco si sono attivati questi che hanno gli occhi mi segue con lo sguardo per caso mi segue con lo sguardo oh posso attivare le leve oh perché perché c'è un treno ci eccolo qua vedi lui non mi guarda perché tu mi guardi ok ho preso il mio ok lo metto qui forse oh cazzo ok bene ok scale per l'inferno un'altra volta qua porta chiusa oh 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 dove vado dove vado dove vado è chiuso no è aperto lì aperto lì aperto lì no lo voglio vedere lo voglio vedere ciao ok 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 orco no 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 eh ah oddio c'era scritto c'era scritto danger quindi non mi fidavo no ho sbagliato sbagliato me l'ho dimenticato che cosi tondi ci sono scivolosi it's too early to die è troppo presto per morire perché alzati da dove mi fai iniziare oh ok da qui da qui 3 2 1 ok danger don't ok alla prossima a sinistra ok sotto salta no dove vado adesso cazzo ooo ooo oo ooo cazzo dove dove ok 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 non vedevo la strada eeeh ok scappa 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 ho sbagliato mi sa mi sa che ho sbagliato entra entra ho sbagliato donna che ho ansia 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 oi ok No, è lì, quindi E quindi Corri, 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 corri Corri, corri, corri Il bello è che A me, oh cazzo Oh Perché non mi fa togliere le scatole Bru Non mi fa togliere le scatole Mi fa ride che noi corriamo dentro i condotti con lo zaino C'è le mani Tipo, vabbè Mi fa ride Ma scusami eh Ma dove cazzo vado Ma non c'ho tempo di riflette Dove cazzo vado a quel Ha cambiato lingua all'improvviso Dove cazzo vado Ah Vaffanculo Ah No, sono caduto anch'io Non l'avevo vista prima quella cazzo di box Pezzo è me, dov'è? Scomparso Oh, un attimo di tregua Scroni d'oxao Un fiore Aspetta C'è scritto no Va indietro Mi fido di più del fiore E poi la sento anche se vado avanti Quindi a posto La state sentendo Non la sentite più Ok Ho parlato e è successo Oh Scappale? Scroni d'oxao? Mmm Luci rosse Ok Presuppongo che un'anima di un bambino Sia entrata nel robot La caccio Così La caccio così E però Ok, 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 ok Ho capito Capitolo 1 A tire squeeze È finita? È finito? Allora Eccomi qua È stato un bel gioco Nell'avvicinarci ad Halloween Con questa Mod Halloween screen Vi saluto Iscriviti sul mio canale YouTube Se vuoi recuperarti live vecchie E Per tutte le live che verranno da adesso in poi Che monterò Che reputerò belle da montare Da mettere su YouTube Ci vediamo alla prossima live Ciao